Dopo domani riprende in corte d'assise a Novara il processo Eternit Bis, prosecuzione dell'Eternit Bis di Torino e frutto di uno spezzettamento sulla competenza. Era stato rinviato, causa restrizioni dovute all'emergenza sanitaria, dal presidente del Tribunale di Novara, Gianfranco Pezzone, lo scorso novembre. Ora la giustizia chiama di nuovo a rispondere delle proprie azioni il magnate svizzero ultimo proprietario dell'Eternit, Stefan Schmidaini, 73 anni, che nel primo processo era stato condannato per disastro ambientale colposo, reato poi prescritto. È difeso dagli avvocati Astolfo Diamato e Guido Carlo Alleva. Per lui l'accusa è di omicidio volontario plurimo di 392 persone, 330 vittime ambientali, morte cioè per esposizione ambientale e non perché hanno lavorato nella cosiddetta fabbrica della morte e 62 ex dipendenti a causa dell'amianto disperso dalla lavorazione. È solo una parte delle vittime, quasi 3.000, che in tutti questi anni sono state colpite, oltre che dal mesotelioma, da asbestosi e tumore al polmone, ricorda Bruno Pesce, oggi nel direttivo a FEVA ed impegnato fin dal 1979 come segretario della CGL casalese nella battaglia per dar voce alla giustizia, alla bonifica e alla ricerca sanitaria. Il colosso Eternit operò per 80 anni, fino al 1986, quando fallì per auto e stanza. Tutti gli stabilimenti italiani chiusero nel giro di sei mesi. Mercoledì mattina, alle 8 e un quarto, partirà da Via del Carretto, di fronte alle scuole martiri, un pullman con una delegazione, associazioni familiari e vittime amianto. I cittadini che vogliano unirsi possano contattare gli uffici al numero 0142 33 68 17 o 0142 33 68 19. Il processo arriva dopo che nel gennaio del 2020 Stefan Schmidaini era stato rinviato a giudizio dal GIP del Tribunale di Vercelli, Fabrizio Filice, in accoglimento della richiesta formulata dalla Procura Vercellese e dal sostituto procuratore di Torino Gianfranco Colace. Ci si aspetta una grande partecipazione a questo procedimento penale, che vede come partilese i familiari delle vittime, molti comuni del Casalese, sindacati e associazioni difesi dall'avvocato Esther Gatti. Per questo motivo l'udienza verrà celebrata nell'aula magna dell'Università del Piemonte Orientale, nel campus dell'ex caserma Perrone.